Gesù è cosciente che si trova oramai al termine della sua vita terrena ed esorta gli apostoli a rientrare in Galilea dove dice io vi raggiungerò subito e una volta arrivati in Galilea conferisce proprio agli apostoli il mandato missionario andate e amministrate tutte le genti e battezzandole nel nome del padre del figlio e dello spirito santo felice gli apostoli dobbiamo dire scelti da Gesù salvati e fortificati e santificati dallo spirito santo il mandato di portare l'annuncio del Vangelo in tutto il mondo però questo non ci deve affliggere perché anche noi abbiamo ricevuto questo mandato di andare e illustrare e portare il messaggio della salvezza questo mandato noi l'abbiamo ricevuto nel santo battesimo di fatte nel battesimo ogni battezzato diventa sacerdote re e profeta e quindi diventa apostolo come Pietro Giacomo Giovanni e gli altri discepoli di Gesù e quindi siamo chiamati a portare l'annuncio del Vangelo della salvezza in tutti in mondo. La religione cristiana è bene precisare non è una religione solo di salvati ma è una religione di salvati per essere salvatori quindi anche noi siamo chiamati a collaborare con Cristo Signore e lo Spirito Santo a portare avanti il messaggio del Vangelo. La lettera ai Romani ci fa vedere come la parte finale proprio la parte dei saluti come già a quel tempo vi era una massa di gente uomini, donne, giovani, famiglie intere che lavoravano a tempo pieno per propagare il Vangelo del Signore ed è stata una cosa grandiosa anche perché era gente che veniva alla fede che non era completamente diciamo istruita ma la loro vita era la predica più bella ed ecco perché la lettera ai Romani alla fine lo scrittore saluta tutti questi nominanti, nome, cognome che una pagina molto lunga di questi primi cristiani che nonostante l'incapacità di parlare le lingue, nonostante la difficoltà delle strade, delle comunicazioni, della salute, dell'età di ciascuno di loro essi erano tutti apostoli, erano tutti missionari. La chiusura della lettera ai Romani quindi porta avanti tutto questo discorso che è bellissimo, cioè er povero perché è una filza di nomi però è bello perché ci fa notare come i primi cristiani erano infervorati a portare il messaggio della salvezza. Gesù ascende al cielo ma continua il mandato ricevuto dal Padre mediante i suoi discepoli. Una volta i laici erano destinati a ricevere il mandato del Vangelo, la istruzione del Vangelo, il messaggio del Vangelo. Oggi, specialmente col Concilio Vaticano II, i laici sono in prima fila ad essere i collaboratori degli apostoli per l'annuncio del Vangelo. Ogni cristiano quindi deve vivere la preghiera, la sofferenza, la liturgia, già che queste sono le forme di preghiera molto belle e che invocano al Signore il suo aiuto e sostegno. Padre Pio è stato un missionario? Sì e no. Era il suo grande desiderio partire per l'Intostan come missionario e scrive una lettera al Vescovo dell'Intostan, Monsignor Poli dicendo ho fatto richiesta al Padre Generale di venire nella sua diocesi ad essere missionario del Signore e purtroppo non mi hanno trovato degno. Scriva lei, eccellenza reverentissima, una lettera al mio Padre Generale. Chissà che conceda a lei la possibilità che io vengo da te ad essere missionario. Padre Pio non partì in missionario ma fece in missionario a San Giovanni Rotonto, in missionario dell'Apostolato e della confessione e della direzione spirituale.